Musica Anche quest'anno, con l'arrivo dell'estate, cominciano i disagi all'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Infatti, a partire dal 1 luglio e fino al 31 agosto, sono sospesi di coveri programmati con il blocco dello scorrimento delle liste di attesa. L'ufficialità è arrivata nei giorni scorsi, con un documento inviato dal direttore sanitario Cosimo Maiorino ai direttori medici dei presidi, ai direttori dei dipartimenti e a quelli dei reparti, oltre che al direttore generale Giuseppe Longo e al direttore amministrativo Oreste Florenzano. La decisione scaturisce da una nuova organizzazione del lavoro a causa del personale insufficiente. Tutte le attività ordinarie di emergenza urgenza sono comunque garantite. Inoltre, sempre per far fronte alla carenza di personale, insieme alla sospensione dei ricoveri già programmati, Maiorino ha indicato i principi che i direttori sanitari medici di presidio dovranno seguire per adeguare le risorse disponibili alla domanda sanitaria nell'ambito dell'urgenza. Tale situazione, ovviamente, interesserà anche tutti i presidi annessi all'azienda ospedaliera e quindi anche il Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni. Il Ruggi, quindi tutta l'azienda universitaria ospedaliera Ruggi d'Aragona, per i mesi di luglio e di agosto, sospende gli interventi di elezione. Gli interventi di elezione sono quelli che si fanno su prenotazione, cioè non quelli urgenti. Quindi c'è una lista d'attesa per fare degli interventi. Questa lista si ferma, non scatta perché tutto il personale, perché a luglio e agosto cominciano le ferie, giustamente le persone hanno diritto di andare in ferie, viene spostato per l'emergenza urgenza e quindi si garantisce soltanto l'intervento appunto di emergenza. È un problema che non riguarda solo il presidio di Cava, è un problema non di questo anno o dell'anno scorso, ma che ci portiamo avanti da tanti anni, legati al blocco del turnover, al blocco degli assunzioni, che ha fatto sì che nel corso degli anni, non solo nelle pubbliche amministrazioni, i comuni, le province, le regioni, ma anche nella sanità, non sono state fatte le assunzioni. Questo percorso che viene da lontano ha determinato delle situazioni di estrema gravità e speriamo che si fa in fretta perché francamente bloccare per due mesi gli interventi non urgenti è una cosa veramente molto grave.